Sì, vi presento Claudia, la nuova premissa di Uomini e Donne Maria, fagli le domande Dì mi Claudia, a quanto non può dire? Dì mi Io non sono a desiderata, sono mai discusate, ho amato diputato, ho t'occhiato, ho chiesto il mio marito Scusate, non è un demorato, è stata appena scattata, non è un po' per la mia Maria, non è un po' per la mia E chi è, scusa? Ancora un salame, un colpito piccante, perché non sapevo queste cose. Ti devi informare, scusa. Certo, Maria. Vediamo un po', dai, vediamo chi è venuta a trovarsi. Raffaella, ti presento Raffaella. Raffaella non c'è. Non c'è, Raffaella ti rifiuta di venire. Come mai, grazie? Tu sei andata, Raffaella. Ma, ma, abbiamo andato. Abbiamo sostituito, però, dai, andato. Certo, uno solo, uno in tutto. Guarda, certo, vedi, hai utilizzato la coppia completa. Quanto figlio, quanto figlio, ti riesco a stare in amore? Guarda, veramente. Sei scazzata data. Mamma mia. Scusa, scusa, l'immunice è sua. Scusa, l'immunice è sua. Scusa, l'immunice è sua.